Stai fonte del bar Milano oggi, Vittoria, grandissimi. Allora ragazzi, come è nata la squadra? È nata al bar, come quattro alcolizzati, e abbiamo presi altri alcolizzati. E sono campioni, si sentono i fatti. Abbiamo cercato di fare una squadra tra amici, cioè cercare di... Oggi è andata bene, è andata bene, eravamo contati, però fa niente, insomma, vedi qua si vede il gruppo degli alcolizzati che abbiamo fatto vedere. È andata bene così, dai. Monta, ma ti vedo bene a fare l'azzo, ti vedo bene a fare l'azzo. Allora, non sto veramente male, sono veramente mezzo malissimo. No, vabbè ragazzi, cerchiamo di migliorare pian piano e andare avanti con le partite, tanto, siamo una buona squadra. Prima che essere squadra, siamo un gruppo, infatti adesso andiamo subito a fare l'aperitivo. Grazie a voi. Ragazzi, allora in portare l'ombra del prossimo. Crepe, ci vediamo ragazzi, grazie mille, alla prossima. Grazie mille.